23 anni di vita devastati non potrà restituirmeli nessuno, così come i 10 anni trascorsi in carcere. E il commento a caldo di Bruno Contrada, ex numero 2 del SISDE, alla decisione della Corte Europea per i diritti umani di Strasburgo, che ha stabilito che non doveva essere condannato per concorso esterno in associazione mafiosa. E questo perché all'epoca dei fatti, 1979-1988, il reato non era sufficientemente chiaro. Una decisione che potrebbe aprire le porte alla revisione del suo caso, una vera e propria odissea giudiziaria, quella di Bruno Contrada, oggi 83enne, cominciata la vigilia del Natale del 1992, anno delle stragi di Capaci e Via D'Amedio, quando il funzionario di polizia viene arrestato e trasferito nel carcere militare di Santa Maria Capua a Vetere, riaperto solo per lui. Seguiranno anni di processi, tra condanne, assoluzioni, annullamenti e rinvii. In primo grado, il 5 aprile 1996, viene condannato a 10 anni, ma assolto in appello il 4 maggio 2001. Poi è la Cassazione, il 12 dicembre 2002, ad annullare il verdetto assolutorio e a disporre un nuovo processo, al termine della quale, Contrada, il 25 febbraio 2006, viene condannato a 10 anni. Sentenza condannata nel maggio del 2007 dalla Cassazione con la rende definitiva. Nell'ottobre 2012, dopo 8 anni complessivi di carcere, torna in libertà. Oggi la clamorosa sentenza della Corte Europea di Strasburgo, alla quale Contrada si è rivolto nel 2008, perché stabilisse il principio che non avrebbe dovuto essere condannato perché il reato di concorso esterno in associazione di stampo mafioso è il risultato di un'evoluzione della giurisprudenza italiana posteriore all'epoca in cui lui avrebbe commesso i fatti per cui è stato condannato. I giudici di Strasburgo, a differenza di quanto fatto da quelli italiani, gli hanno dato ragione, affermando che i tribunali nazionali nel condannare Contrada non hanno rispettato i principi di non retroattività e di prevedibilità della legge penale. E non solo, la Corte ha anche condannato lo Stato italiano a risarcire Contrada per 10.000 euro, anche se la richiesta era di 80.000. Adesso spera che la sentenza di Strasburgo possa avere conseguenze anche sulla richiesta di revisione del processo. Questo pronunciamento ha un valore a concluso che la giustizia italiana non può ignorare.